ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video ragazzi oggi sarà un video di video acquisti il primo ragazzi inerente al mese di luglio allora veramente è già un pochino che ho questi pacchetti non ho avuto proprio il tempo materiale per fare questo video e oggi insomma mi ritaglio questa mezz'oretta e ne approfitto e vi mostro gli ultimi arrivi allora intanto vi faccio vedere i pacchettini come vedete tre provenienti da amazon e uno proveniente da oblivion e poi ragazzi non è finita qua perché ci sono altre due edizioni qui sul tavolo che non vi ho fatto vedere il perché non sono chiuse non sono sigillate all'interno di uno scatoloncino di una busta di niente quindi sono nude crude e quindi letterò per ultime insomma e andremo a vedere anche queste due edizioni che vi dico già si tratta di due steelbook 4k allora cominciamo subito questo video con i pacchi provenienti da amazon alcuni è veramente già un po che sono arrivati e quindi sarebbe anche ora che io aprissi questi pacchetti allora iniziamo subito dal primo e si tratta ragazzi di una bella recupero un recupero 4k io in collezione ho solo il dvd e che si tratta di s o s fantasmi questo mitico film anni 80 con i grande bill murray anche questa edizione pagata veramente pochissimo su amazon adesso non ricordo quando andò in promozione adondo un prezzo veramente stracciato penso di ricordarmi sui 13 euro una roba del genere ho deciso di recuperarla era nel carrello da un pezzo e finalmente è arrivato a casa questo bellissimo upgrade come ho detto io solo il dvd questa bella slip tabella lucida e adesso andiamo a vedere la marei sono curioso di vedere il lavoro che è stato fatto dietro questo film se questo upgrade insomma mi piacerà se sarà veramente di qualità come spero sia e non vedo l'ora di andarmelo a riguardare a distanza di tantissimi anni e vedere se effettivamente insomma il lavoro il lavoro di restauro è insomma come si deve andiamo avanti con l'altro pacchettino qui sono presenti due edizioni ragazzi non me ne vogliate ma tutto tutto per terra allora ho recuperato i professionisti cast fotonico per questo bellissimo firma bart lancaster lì marvin robert ryan john pa e jack palance e ralph bellamy grandissimo cast per questo grande film è presente anche la bellissima e bravissima claudia cardinale quindi film che ho visto su netflix mi sembra mi è piaciuto veramente tanto e ho deciso di recuperarlo film che mancava la mia collezione come ho detto non avevo mai visto e mia mancanza mia mancanza che abbiamo colmato poi in questo film claudia cardinale proprio fuori di testa veramente dentro abbiamo i blu ray senza serigrafia senza nulla un gran bel film ragazzi interpretazioni magistrali di questo grandissimo cast veramente un gran bel western gran bel western allora adesso questa carta che la metto dentro alla prossima busta di carta che andiamo ad aprire in questo momento quindi terzo pacchettino buttiamo tutto dentro e via si tratta anzi anzi non vi ho fatto vedere la seconda edizione del primo pacchettino sto prendo un po troppo rallentiamo un attimo il film di del mitico a kiro kurosawa si tratta di kage musha film in edizione tedesca con audio italiano quindi grande recupero questo è un film che non avevo in collezione quindi che va a infoltire la mia collezione inerente a al grande maestro kiro kurosawa edizione consigliata dal mio amico domenico che ringrazio il film ovviamente lo conoscevo non sapevo di questa edizione tedesca con audio italiano e quindi un grazie e un gran bel recupero insomma anche anche questo va infoltire la mia collezione del grande maestro akira kurosawa veramente un pezzo da 90 secondo me adesso vi mostro invece quello che ho appena aperto quindi l'ultimo pacchettino si tratta della steelbook 4k della seconda parte di d'artagnan ovvero milady come avevo detto nel video precedente d'artagnan è solo la prima parte di questo film che è diviso in due parti e fortunatamente è già uscito milady che ovviamente essendo sigillato non ho visto voglio andare proprio a vedere come finisce sto film che in realtà mi era piaciuto mi era piaciuto veramente con la mitica eva green e vincent cassell e adesso andiamo a scartare questa steelbook 4k eccola qui la nostra eva green adesso vi faccio vedere anche aspettate eh che c'è un adesivo che è posto nella parte sottostante della steelbook e ok adesso intanto che è messa così la andiamo ad aprire mi sembra che ci sia anche un disco fuori sede esatto e si tratta proprio del disco 4k mi sembra esatto anche questo allora stacchiamo tutto il flare non volevo staccarlo ma lo stacchiamo così vi faccio vedere anche le lavorazioni di questa steelbook abbiamo si ha la scritta milady che i tre simboleggia i tre moschettieri con la spada tutto in rilievo abbiamo anche questa cornice tutta in rilievo quanto l'adesivo è rimasto attaccato alla steel e non al flare invece dietro non abbiamo nessuna lavorazione come potete vedere ma qui veramente è bella sontuosa andiamo a vedere anche la parte interna dove troviamo la nostra eva green e di qua abbiamo il disco 4k e il disco blu ray che adesso andiamo ad estrarre così andiamo a vedere se c'è qualche artwork dietro assolutamente nulla ma molto bella questa steelbook avevo recuperato la steelbook 4k di d'artagnan al game stop pagandola solo a 9 euro 90 questa invece è stata presa in pre order mi pare 25 euro se non mi sbaglio quindi sono contento di avere entrambe le steelbook 4k penso sia uno dei pochi titoli una delle poche duologie che delle quali possiedo le steelbook 4k e di solito non non sono sistematico negli acquisti insomma per un titolo magari tempo fa ho comprato il blu ray poi per il secondo ho comprato il 4k insomma mi ritrovo alcune anche duologie alcune anche trilogie per le quali ho magari il blu ray e poi il 4k poi il terzo ancora il 4k magari una steelbook una mare cosa che non mi piace tanto infatti quando escono le collection tendo a ricomparare le collection proprio per questo motivo creda penso sia uno dei degli esempi più lampanti avevo i blu avevo i blu ray sia del primo e del secondo volevo acquistare la steelbook del terzo poi ho desistito volevo acquistare la mare del terzo poi ho desistito e ho optato per la collection in 4k quindi molte volte vado a compensare questi diciamo tra virgoletti errori che faccio delle volte bisogna vedere anche lo sapete anche voi meglio di me con i soldi come siamo messi molte volte non siamo propensi ad andare a spendere 30-35 euro per una steelbook ma io ne so ci accontentiamo di una mare perché in quel momento magari ci possiamo permettere quella poi dopo magari ci pentiamo e io in questo caso non vado a recuperare le altre 4k le altre steelbook ma preferisco prendere una bella collection in 4k e mi sembra sia più economico che più giusto perché se no ci mettiamo in casa 200.000 doppioni e non mi sembra non mi sembra una bella cosa anche perché io penso qui in collezione di avere parecchi doppioni e bisogna che comincio anche a sfoltire un po' la collezione quindi tutti quei titoli che ho recuperato in 4k o in blu-ray per i quali possiedo o il blu-ray o il dvd insomma di cominciare a vendere qualcosa perché veramente mi sto riempendo troppo e bisogna che i doppioni anche se non sono uno che è molto propenso a vendere quello che compra però mi rendo anche conto che una volta che ho l'edizione 4k se l'edizione in blu-ray non è un'edizione rara non è un'edizione particolarmente di valore e può essere anche di valore affettivo non solo legato ai quattrini insomma posso benissimo disfarmene allora andiamo avanti ragazzi con il pacchettino arrivato da Oblivion anche questo dire la verità è già un po' che è stato spedito ed è arrivato l'ora di andarlo ad aprire anche perché all'interno troviamo due belle edizioni pacchi sempre super protetti da Oblivion veramente bravi ragazzi se fate sempre un ottimo lavoro per non parlare poi delle vostre edizioni che sono spettacolari ok tac tac altro pluriball quindi molti dovrebbero imparare come si fanno a spedire le edizioni delle volte anche da da ebay ma arriva della roba ragazzi ma arriva della roba roba anche da soldi eh roba da soldi la gente non sa come fare a proteggere le edizioni allora sono due edizioni inerenti alla linea Oblivion ed abbiamo concerto con la pistola edizione limitata e numerata 100 copie la mia la numero 64 bellissima questa slip veramente veramente tanta roba guardate che artwork pazzeschi questa linea è veramente bellissima io delle loro linee sto facendo l'oblivion classica che è questa e la linea classic sono due linee veramente pazzesche ragazzi volevo iniziare anche volevo iniziarne anche un'altra ma poi insomma troppo carne al fuoco si rischia di non stare dietro le uscite quindi insomma ho desistito per il momento poi dopo magari vediamo andiamo a vederci la Marei anche qui abbiamo tantissimi contenuti speciali tantissimi allora andiamo a vederlo anche all'interno dell'edizione dove c'è il blu ray andiamo a vedere anche l'artwork interno e abbiamo anche questo mini booklet sono rimasto un po' indietro con la visione dell'edizione oblivion un po' indietro un po' tanto indietro diciamo un po' tanto indietro sarà meglio che mi dia anche una mossa e cominci a visionare anche tutti sti film ma perché se no è anche inutile acquistarli se poi comunque uno non non riesce a visionarli è vero che c'è sempre tempo ma insomma è meglio è meglio visionarli e poi abbiamo il bosco fuori anche questa qui è una o card stupenda anche questo è limitato e numerato 100 coppie la mia sempre la numero 64 quindi bellissima anche questo o card veramente pazzesca grande lavoro veramente adesso andiamo a dare una visionata alla Marei bellissima la serigrafia del disco uguale all'artwork in copertina questa è l'immagine interna alla copertina e adesso andiamo a vederci anche il nostro booklet qui abbiamo interpreti e personaggi qui abbiamo la sinossi del film con qualche curiosità anche questo è un bel è un bel booklet anche questo stanno facendo un attimo lavoro veramente edizioni bellissime edizioni da collezione che non hanno nulla da invidiare a nessuno sono veramente realizzate in modo maniacale pazzesco tanto impegno tanta dedizione tanta qualità sia nel nel realizzamento di queste edizioni come qualità del lockard della Marei di tutto come parlo di artwork di materiale e tutto quanto e anche come insomma restauro di questi film che vengono restaurati da pellicola originale 35 mm quindi insomma io ho visto i primi 4-5 5-6 film dell'oblivion hanno veramente una qualità di immagine veramente superba allora adesso ragazzi è arrivato il momento intanto mi sgombro un po' la mia scrivania e butto perché era tutto ok abbiamo la diciamo tra virgolette questa questa sorpresa sorpresa che è il recupero di 2 steelbook recuperate da gamestop e adesso ragazzi non tenteniamo troppo vi faccio vedere di cosa si tratta allora film di michael man si tratta di ferrari finalmente sono riuscito a recuperare la steelbook 4k di ferrari pagata 19 euro e c'era una promozione da gamestop che se acquistavi due steelbook la seconda la pagavi solo 5 euro io ragazzi ho recuperato tartarughe mutant ninja anche questo era un titolo che non avevo in collezione steelbook che mi è costata appena 5 euro e sono curioso di vedere questo film adesso comunque le andiamo a aprire tutte e due film che ho visto su netflix ferrari devo dire che mi è piaciuto adam sandler grandissimo grandissima panella ipocruz adesso volevo tenere forse questo adesivo qui forse lo teniamo o forse no adesso ci penserò allora intanto mi piace tantissimo perché questo flare con questa tasca è un'ottima idea e tutti dovrebbero imparare ad adottare questo sistema a me piace tantissimo senza adesivi senza niente ci infilate l'edizione dentro e siete a posto piuttosto che avere un flare volante un flare incollato o un flare con gli adesivi io preferisco centomila volte questa soluzione qua per me come ho detto disco 4k e disco blu ray quindi abbiamo questo combo edizione veramente pazzesca anche qui ero tentato di recuperare solo il blu ray meno male che non l'ho fatto meno male che ho aspettato e ho trovato anche questa occasionissima da game stop e sono riuscito a recuperare i film in 4k e blu ray adesso andiamo a vedere perché all'interno ci sono anche 5 cartoline da collezione adesso andiamo a vedere una alla volta con una penso sia una frase iconica ah no Enzo Ferrari nel film ok Adam Driver è stata una figura di spicco del panorama imprenditoriale sportivo dell'Italia del dopoguerra fondatore dell'onorme case automobilistiche della relativa sezione sportiva alla scuderia Ferrari fu conosciuto con molti soprannomi che definirono la sua spiccata personalità come il cavaliere il commendatore l'ingegnere il mago il patriarca e il drake bella questa cartolina quindi c'è una piccola parte della della storia anche qui Pietro Taruffi interpretato nel film da Patrick Damsley è stato uno dei più grandi piloti degli anni 50 detto lavoro per argentata per il colore dei suoi capelli e per il suo stile di guida è riuscito a conquistare la vittoria nelle tre più importanti gare mondiale automobilistiche sul tracciato stradale la targa Fiori nel 1952 la carriera panamericana del 1951 e la fatidica mille miglia nel 1957 con la vittoria delle mille miglia a 50 anni si ritirò dalle cose quindi una piccola parte della storia di questi personaggi che hanno fatto la storia della Ferrari parla delle mille miglia adesso ragazzi non ve le leggo tutti ve li fermo un attimo così se avete voglia di stoppare il video e di leggere e qui parla un attimo della scuderia anche queste sono molto molto belle molto molto belle Adam Driver mi è piaciuto veramente tanto devo dire la verità non avevo sentito parlare bene di lui in questo film a me è piaciuto quindi bella edizione ragazzi ve la consiglio se non l'avete ancora acquistata poi il film secondo me merita veramente tantissimo e adesso è l'ora di andare ad aprire Tartaruga ninja bopla la 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 invece abbiamo questo flare così volante che tutto sia anche un pelo rotto possiamo vederci gli artwork molto belli entrambi anche qui anche qui disco 4k disco blu ray adesso qui però andiamo ad estrarre i dischi perché dietro ho già visto che ci sono delle immagini quindi quindi steelbook molto 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 bella li rimettiamo a posto perfetto ragazzi questo è l'ultimo acquisto con questo ultimo acquisto ho terminato questo video ho diverse edizioni diciamo per quello che può riguardarmi spettacolari ovviamente perché sono amanti di quelle edizioni da mostrarvi altre due in arrivo spero di riuscire a fare gli unboxing quanto prima perché un'edizione è veramente un po' di tempo che ho lì insomma sto tentennando perché non ho proprio il tempo materiale per per poter fare stavo guardando se era strisciata no no è proprio così qui ho detto cos'è strisciata invece no 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 è proprio così stavo dicendo stavo cercando di trovare il tempo per fare questi unboxing c'è un'edizione che è lì da un po' di tempo ancora chiusa edizione per la quale sono sicuro in quanto l'ho acquistata o l'ho recuperata su ebay sigillata quindi sono sicuro che ci sia tutto l'interno e non capiti come per che che poi riguardando nella descrizione non c'era scritto nella descrizione che era priva della della media book ma quello che non c'era scritto è che era priva anche del certificato di autenticità quindi insomma adesso io mi sono messo in moto per recuperare per riuscire a recuperare la 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 media book e quindi adesso ho mosso qualche mio amico cercando di di vedere se riesco a portarmi a casa questa media book almeno la media book il certificato ahimè niente quello è irrecuperabile non capisco perché questi collezionisti smembrino le edizioni ho trovato altre edizioni che ovviamente mi mancano prive di media book col certificato ma prive di media book quindi questi qui cosa fanno si tengono la media book e vendono il busto col certificato senza certificato lo buttano via non lo buttano via non capiscono non capiscono neanche cos'hanno in collezione cioè io un collezionista che smembra un'edizione si tiene un pezzo vende l'altro che cambia i dischi per me non è un collezionista le edizioni vanno tenute come escono non si può andare a cambiare un disco o vendere un pezzo o buttare via un certificato di autenticità un flare ragazzi non si può non si può non siete collezionisti se fate così le edizioni vanno tenute integre integre in ogni sua parte all'interno se ci deve essere un opuscolo o qualcosa deve esserci quell'opuscolo è inutile che e poi in delle edizioni del genere che sono edizioni che comunque costano molti soldi tu mi butti via il certificato di autenticità perché lo butti via che è molto importante cioè gli viene certificato l'autenticità dell'edizione con la numerazione e ti vendi in media book o ti tieni in media book e vai via il busto forse è meglio che ti compravi la media book solo perché come sapete Nemless oltre a fare i busti fa anche la media book quindi di Naked Weapon quando è stato venduto messo in vendita il busto è stata messa in vendita anche la media book nuda e cruda quindi se non vi interessa se a questi tipi qui non interessa il busto ma perché sono andati a spendere 130 euro per un busto è meglio che ne spendevano 30 e si recuperavano alla media book ed è finita lì e che dopo vogliono speculare si vogliono tenere la media book e vogliono tirare sui soldi di tutto il resto col busto vabbè questa cosa qui non capiterà più e ho recuperato altre due edizioni che mi sono una mi è arrivata proprio oggi anche lì ho chiesto espressamente come chiederò da oggi in avanti fotografie e addirittura dove non ho specificato va chiesto il certificato sia presente o non è presente mi è stato detto che è presente mi sono state mandate le foto del busto perché molti mettono la scatola però non fanno vedere cosa c'è all'interno e io penso che dopo che uno ha commesso due o tre errori alla fine insomma abbia imparato e qui adesso queste due edizioni che mi devono arrivare sono dovrebbero essere perfette senza un mancamento senza un grafico senza nulla mi penso che una ci sia una macchiatura nella parte superiore dello scatolone tipo come c'è qua su cui non so se si veda c'è una piccola macchiatura ma non mi interessa ma che comunque l'ho visto il venditore l'ha fatta vedere quindi visto è piaciuto e ho deciso di recuperare anche perché sono edizioni molto rarie si fa fatica a trovarle complete e niente aspetto sempre quell'edizione dalla Francia che mi deve arrivare anche questo venditore ha spedito per primo ne ho prese tre la prima che ho preso è stata quella da questo venditore francese che ha spedito non è ancora arrivata doveva arrivare ieri non è arrivata ed è arrivata l'ultima edizione che ho comprato che è arrivata oggi anche lì non lo so compri delle edizioni da soldi penso che la priorità sia far arrivare il pappo all'acquirente nel nel meno tempo possibile anche perché più viene sbalottata di qua e di là più mani cambia più facilità c'è che prenda una botta che si possa spaccare visto anche la fragilità poi di questa edizione ragazzi io ho chiacchierato anche troppo ma quando mi metto a parlare di queste cose parlerei per ore ore e ore adesso magari più avanti faremo una live anche inerente proprio a questa tipologia di edizioni magari ho degli amici molto sul pezzo e quindi possiamo parlare liberamente di un po' di tutto capendoci bene faremo una live adesso devo ancora mettermi in moto per sentire con i miei amici se c'è qualcuno che è propenso a fare questa cosa con me e ragazzi se in caso che metterò sul sul mio gruppo facebook mondo cinema farò un post e farò un post anche qui su youtube così chi vorrà seguire la live insomma sarà ben ben voluto ragazzi solite raccomandazioni iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciatemi un benedetto like ragazzi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti